Nell'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII a Terra Nuova è attiva da diversi giorni una web radio gestita interamente dagli alunni. Il tutto è un podcast ed è una delle attività collaterali rispetto alle normali lezioni, con la partecipazione diretta di tutti e continue interviste ai ragazzi che così si avvicinano gli uni agli altri scoprendo le singole personalità sotto legida del dirigente scolastico. Insieme a un giornalino web è un altro degli strumenti di comunicazione e vogliamo dire di trasparenza. Presto cominceremo a parlare negli istituti anche di bilancio sociale, cioè a squadernare proprio gli investimenti e le destinazioni. Ecco questo è un piccolo esempio di come i ragazzi, oltre a fare un'esperienza di nuovi linguaggi, nella quale tra l'altro si stanno rivelando molto bravi, documentano le attività dell'Istituto per adesso in podcast e per un prossimo futuro cominceranno forse a fare anche delle piccole dirette.